a voi big rami ha pubblicato questo aggiornamento un po strano dove fa questo passo tipo d'appollo nel solito andito come diciamo noi in sardegna o corridoio come dite voi in italia dove non si sa cosa voglia dimostrare secondo me è un aggiornamento molto molto strano non so neanche perché si sia messo a fare una cosa del genere mi sembra in linea con gli aggiornamenti che abbiamo visto prima del mister olimpia la schiena è un po piatta però i glutei sembrano vagamente definiti in generale non mi sembra eccezionalmente definito però è un aggiornamento un po misterioso mentre qui vediamo rami appunto che allena le gambe perché saprete benissimo che ha bisogno di avere quadricipiti più grossi e dicevo secondo me è una cosa un po misteriosa e anche ambigua non capisco il senso di questo aggiornamento a meno che non voglia fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto prima nel mister olimpia perché ha pubblicato tanti aggiornamenti prima del mister olimpia e magari vuole un po essere misterioso di sua iniziativa cioè volontariamente diciamo poi ditemi un po che ne pensate voi se pensate che lo stia facendo apposta per essere misterioso se ci stia prendendo per il culo o non si sa che altro è qualche giorno prima c'è nicos il coach di big rime pubblicato questo back double bicep dove fa vedere un po la condizione attuale di rami io non vedo dei miglioramenti eccezionali nella parte bassa della schiena forse vagamente c'è un po più di densità sotto il trapezio c'è qualche dorsale in più e c'è da scritto nella didascalia ho trovato questa foto di rami sapete se recente o quando è stata presa questo è il look che stiamo cercando di ottenere per quest arnold e rami ha scritto io penso sia stata fatta la settimana scorsa quindi pare che sia una foto recente non so se c'è nicos l'abbia postata per far credere che ci siano dei miglioramenti nei dorsali perché si è parlato molto di questo buco nella schiena cioè io ne parlo da anni ma sembra che la gente se ne sia accorta di recente e in più rami ha pubblicato questo video con questo dottor a can che lo sia seguendo un po la sua condizione per questo danno nervoso con questa didascalia dove parlano appunto di cellule staminali e poi questo amino neurofrequency anf che non so bene cosa sia però se ne è parlato qualche settimana fa di questo trattamento trattamento con le cellule staminali di rami ne ha parlato un x10 power io l'ho accennato in qualche video non ho fatto un video specifico su questo trattamento che sta facendo rami perché a quanto pare ci sarebbe un danno nervoso come avrà ipotizzato il buon nick trigili che per quanto faccia video click bait ogni tanto esageri un po con le accuse certe cose in genere ci azzecca quindi rami starebbe facendo un trattamento con le cellule staminali per questo amino neurofrequency che dovrebbero migliorare un po la sua condizione questo per la routine che ha portato al mister olimpia io non so se con cellule staminali e altre cose si possano migliorare dei danni nervosi perché pare che questo sia il motivo del buco alla schiena e della leggera atrofia alle braccia perché sono un po peggiorate io non lo so non sono medico non sono esperto di cellule staminali magari qualcuno di voi ne sa più di me sicuramente perché in genere quando chiedo queste cose qualcuno mi risponde e ne sa di più però altra gente che ha usato cellule staminali tipo ronny colman non mi pare che ha avuto dei grossi benefici però non so se in un caso come rami che comunque è abbastanza integro riesce ancora a camminare non si è sfanculato e distrutto completamente come ronny ci possono essere dei miglioramenti qui guardate la schiena che è abbastanza piatta non è densa dicevo io non so se ci possono essere dei miglioramenti usando cellule staminali né tantomeno so se in due mesi possa risolvere certi problemi magari ci potranno essere dei miglioramenti all'arno classic però diciamo che la situazione rami è abbastanza misteriosa tra quell'aggiornamento col passo del pollo laterale e queste cose di cellule staminali se ci sia qualcosa di concreto o se sia molto molto fumo poi anche la foto di ched nichols che dice che quello è il look che stanno cercando di ottenere per l'arno classic e rami che dice con la foto la settimana scorsa non lo so io sono un po scettico su tutto ciò più che altro sul fatto come detto che possa migliorare in due mesi poi alcuni mi hanno scritto in un commento ieri perché io ripeto le cose spesso io le cose le ripeto spesso perché ho capito in quasi otto anni di youtube che anche se dico il sole sorge ad est la gente pensa che io stia dicendo che il sole sorge ad ovest quindi le cose le ripeto perché non si è mai abbastanza chiari e per certe persone non basta essere chiari perché ci sono molti analfabeti funzionali che non capiscono quello che dico chiusa parentis io penso che vedremo un rami leggermente migliorato rispetto al mister olimpia in qualche aspetto che può essere la definizione o magari un po più di densità o magari qualche miracolo di cellule staminali leggermente migliorato non penso che vedremo un miglioramento stravolgente però mi aspetto un miglioramento sia anche dato dall'orgoglio dalla volontà di migliorare un quinto posto umile all'olimpia una caduta come ho detto in altri video verticale dal primo al quinto posto penso che vedremo un miglioramento non penso che sarà eccezionale però ditemi un po voi che ne pensate tutte queste considerazioni su perché abbia pubblicato questo aggiornamento col passo del pollo che ne pensate delle cellule staminali se pensate che rami migliorerà all'arnold classic e anche che ne pensate della foto di cernicos comunque io penso che sia un po misterioso tutto ciò c'è qua il quadra che non cosa però vedremo un po buona grazie a tutti